passato agli archivi hard to kill la rinata tne total non stop action aveva bisogno di lanciare da subito un segnale forte di fare qualcosa che gli facesse dire all'intero mondo del wrestling ehi noi siamo qui provate magari a guardarci a darci di nuovo una chance ancora una volta beh effettivamente qualcosa è stato fatto la tne wrestling ha ricominciato con i suoi appuntamenti settimanali con delle puntate che vengono registrate appunto e poi distribuite settimanalmente e effettivamente ci sono diverse cose che sono un po un tuono lanciato dalla tne nel mondo del wrestling in questo momento ma ancora una volta benvenuti o bentornati su wrestling unico amore con voi come sempre il vostro draco che come promesso comunque sia l'anno scorso e anche in questo inizio anno sta provando a guardare un po di più quello che accade nella compagnia di anthem che appunto ha fatto questo rebranding e ormai è chiaro anche finalmente per fortuna come la possiamo seguire ovvero sul suo canale youtube tramite appunto la sezione del degli abbonati per gli abbonati del canale oppure su tne plus questo nuovo servizio che permetterà di vedere le puntate settimanali e presumibilmente tutti quelli che sono poi gli appuntamenti speciali no gli eventi speciali della tne fra un pay per view e l'altro come per esempio il prossimo no surrender dove ci saranno comunque anche dei match titolati ma comunque ci arriviamo intanto se volete anche poi supportare noi il wrestling unico amore e non solo la tne potete farlo in modo gratuito e molto semplice come per esempio lasciando un like a questo agli altri contenuti che vedete qui o sui nostri social e anche le vostre preziosissime opinioni nei commenti perché che siate qui su youtube oppure sulla nostra sezione facebook sulla nostra sezione instagram i vostri commenti sono preziosissimi per arrivare a quante più persone possibili ci date davvero una grande mano se ci volete raggiungere anche nel nostro gruppo telegram dovete solamente andare nella descrizione di questo oppure di un altro video cliccare sul link che trovate e ovviamente avendo l'app di telegram installata ci raggiungete molto facilmente per chiacchierare con noi quotidianamente di tutto il wrestling di cui avete voglia di parlare ma direi che dopo questa intro possiamo iniziare effettivamente a entrare nel vivo di quello che è il mondo della tne di questo tuono lanciato dalla compagnia di anthem che ha aperto il primo episodio dopo hard to kill con un tag team match ci aiutiamo con le immagini fornite dalla tne tramite il suo sito ufficiale e vediamo uno scontro fra i grizzly di young veterans e la coppia formata da frankie casari a neri kiang che però non sono riusciti a battere i due inglesi che hanno avuto la meglio in questo debutto in uno show eh settimanale nello show settimanale della tne dopo che hanno eh avuto anche il match eh ad hard to kill non sono riusciti a vincere i titoli di coppia rimasti nelle mani degli ebc però si sono presi comunque questa soddisfazione diciamo già un piccolo riscatto su eric yang e frankie casarian entrando così poi nel pool di possibili nomi che possono andare all'assalto dei eh titoli di coppia tra l'altro eh diciamo una situazione molto particolare quella nella apertura di questa puntata di impact che comunque sia eh mantiene appunto questo nome per quanto riguarda il format settimanale della tne come era una volta sostanzialmente però appunto come già detto una situazione particolare perché i veterans vincono però nel ring succede comunque qualcos'altro perché frankie casarian non prende molto bene la sconfitta riportata tra l'altro anche il pin subito da eric yang lo vedete lo squadra un po' e poi decide di attaccare un altro degli original della tne di eseguire questo attacco accolto con molta polemica da parte del pubblico la cosa non sembra interessare minimamente frankie casarian che appunto tradisce il suo tag team partner nel match successivo vediamo qualcosa di altrettanto dinamico se non anche di più perché c'è un match multiplo con l'aredo kid tra i miguel mike bailey kushida e un rientrante in azione jake something tra l'altro jake something diciamo che era da un po che non andava esattamente sotto i grandi riflettori qui in questo incontro secondo me è stata una una buona scelta perché comunque con tanti atleti agili presenti all'interno del ring lui è sicuramente uno di quelli che può dare qualcosa qualcosa di diverso in un in un match del genere effettivamente è quello che accade perché appunto tanti come per esempio l'aredo kid mike bailey tre miguel ovviamente eseguono degli spot molto acrobatici molto dinamici jake something è quello che un po entra in azione per fare un po di piazza pulita tra l'altro nel match c'è anche elico del vichingo che ad hard to kill ha cercato di conquistare il titolo x division e quindi giustamente rimane un po in quell'ambito in quel pool di nomi dove si fa una lotta magari un po più dinamica se non fosse che c'è appunto jake something e quindi qualcosa di diverso a scombinare la situazione quando l'aredo kid segue questo spanish fly bellissimo su mike bailey vediamo comunque poi jake something rientrare in azione a brancare l'aredo kid e schiantarlo per ottenere la la vittoria finale devo dirvelo non mi è dispiaciuto comunque questa questa scelta io magari nella nella storia non sono mai stato un grande stimatore di jay something però vederlo in questo contesto comunque in un match che non dura tanto è molto dinamico molto scorrevole secondo me comunque si è giocato bene le le sue carte stiamo a vedere quello che potrebbe accadere lui non è esattamente un nome da da x division però ecco non è neanche quel nome da mandare poi nel nel main event però ecco è tornato in azione tra l'altro comunque uno stato di forma molto buono quindi vedremo appunto cosa ne verrà fuori detto questo abbiamo il primo discorso di nicknames a impact o meglio comunque in tne lui che è arrivato nel finale di hard to kill andando faccia a faccia con il leader del system nonché neocampione mondiale muse prende il microfono inizia sostanzialmente a dialogare un po' con i tifosi molto felice ovviamente di vederlo lì se non fosse che viene raggiunto e interrotto da steve mackley non steve mackley anche lui un po' fuori dai riflettori magari nell'ultimo periodo tant'è che per esempio con dario ve ne abbiamo parlato anche nel nell'ultimo podcast del 2023 che abbiamo fatto su impact pensavamo che lui potesse essere addirittura in via d'uscita visto anche l'arrivo di dionna purrazzo in all elite wrestling dopo le sue ultime apparizioni in tne però così non è steve mackley ne va faccia a faccia con nicknames sganciando quella che secondo me magari fatemi passare un po' il termine il paragone è un po' una piccola pipe bomb perché sostanzialmente gli dice che sì magari lui vuole atteggiarsi no come una nuova persona come un nuovo personaggio che è rinato ma la gente lo conoscerà sempre per essere stato dolf ziggler e ragazzi comunque sia cioè diciamo è un po' come voler mettere subito carne al fuoco come voler fare subito un certo tipo di richiami che magari ad alcuni possono far storcere il nato però per me che mi piace la narrativa un po' più a 360 gradi un po' più omnicomprensiva di quello che è il percorso del lottatore beh ho davvero tanto gradito questo segmento così come comunque questa prima storia per nicknames che ecco sembrava dovesse andare subito contro mus per il titolo e invece comunque prende un po' una via più larga e ne sono contento mi piacciono queste cose lo sapete eh se comunque ci seguite da un po' di tempo se magari vi capita ogni tanto di chiacchierare con me o con altri del progetto ecco un percorso un po' più costruito è quello che comunque ci piace vedere e sembra proprio che comunque con nicknames vogliano fare esattamente questo però appunto staremo a vedere un po' quello quello che accadrà intanto abbiamo poi anche un match femminile nella eh prima puntata di ripartenza della tne uno scontro sostanzialmente abbastanza semplice per eh le decay e poi abbiamo sostanzialmente il match che già comunque sia era stato annunciato già aveva creato tanto hype ed è uno di quei casi dove l'hype poi viene confermato dei fatti perché josh alexander e will osprey si affrontano in quello che secondo me è stato un rimatch davvero pazzesco per certi versi oserei dire anche forse superiore al primo confronto perché qui diciamo è una situazione molto diversa per quanto riguarda eh lo stato singolo dei due dei due atleti un will osprey comunque in uscita dalla new japan pro wrestling un josh alexander che comunque si sta eh rilanciando all'interno della tne quindi un incontro che sostanzialmente può finire tranquillamente a favore di uno così come a favore dell'altro e come già detto è stato davvero pazzesco ha avuto tutto dalle eh mosse d'impatto a questi momenti come potete vedere in questa immagine dove eh si eh mette in gioco della tecnica ma in una situazione un po' più particolare perché qui per esempio will osprey era sull'epron ring josh alexander ha un moto di vita lo arpiona alla caviglia e letteralmente proprio lo tira giù dall'epron ring con osprey poi come potete vedere che si aggrappa per la disperazione a un tavolo tirandolo via da sotto il ring per cercare comunque di resistere e sopravvivere alla eh presa di sottomissione del canadese alexander davvero io non ho più parole per dire quanto questo wrestler sia incredibile ha fatto delle annate pazzesche quando sostanzialmente in pochi cioè forse c'eravamo noi e pochi altri a dargli un po' di credito quando mh si è sciolto no il team del north e eh i tampeggio poi è andato via da eh allora impact wrestling oggi tne e appunto josh alexander è rimasto da solo noi davvero speravamo che si prendesse le luci della ribalta e si l'ha fatto e come meritatamente e alla grande tra l'altro subendo anche delle cose e pazzesche come questa manovra killer di will osprey che eh ribalta sostanzialmente due proiezioni di alexander sull'epron ring e poi lo eh carica a sua volta per schiantarlo sul tavolo che era stato posizionato fuori dal ring il tavolo che appunto si intravedeva nella nell'immagine di prima viene poi posizionato e utilizzato dai dai due wrestler uno spot che è uscito benissimo un impatto davvero eh incredibile e un osprey che passa in vantaggio e mette davvero a dura prova alexander se non fosse che nel finale il canadese riesce a contrastare non solo un'altra hidden blade ma anche la stormbreaker di osprey che non riesce così ad eseguirla e finisce preda di questa styles clash davvero ben eseguita un richiamo stupendo tra l'altro un altro grande nome comunque non solo della storia del wrestling ma nello specifico della TNE ovvero AJ Styles e poi arriva il C4 Spike definitivo che chiude le eh le ostilità davvero se avete comunque un po' di tempo se avete almeno una mezz'oretta andate sul canale YouTube della eh TNE è un match che trovate anche gratuito così come il primo confronto fra i due recuperatelo godetevelo perché davvero è stato molto molto bello e interessante e come già detto diciamo poteva essere più godibile del primo round perché il finale poteva andare da pannaggio di tutti e due questa volta sorriso a Josh Alexander e io sono ancora più contento per certi versi perché durante una delle live dei nostri Oscar annuali avevo detto che una delle mie speranze per questo duemilaventiquattro era un inizio d'anno molto diverso per Will Osprey rispetto al trend che stava prendendo nel duemilaventitré con sì grandi match ma tutte vittorie sostanzialmente anche contro nomi molto molto importanti negli ambienti dove andava ad esibirsi per esempio Josh Alexander per la TNE, Naumichi Marufuji per la NOA ecco in questo inizio anno per fortuna sta accadendo ciò che speravo ovvero un Will Osprey che sta anche restituendo a livello di risultati di score ciò che ha preso magari in in precedenza e questa secondo me è una delle cose più belle che si possano vedere nel pro wrestling ovvero non solo un eh un artista un performer che prende che raccoglie ma anche comunque un performer che restituisce comunque almeno qualcosa di quello che eh che ha avuto per sé prima per quanto riguarda poi la eh prima puntata della eh TNE in questo nuovo avvio sostanzialmente quello era l'ultimo match a seguito c'è un discorso di Scott d'amore per caricare un po' ulteriormente il pubblico per ricordare che appunto la TNE è tornata e poi ovviamente ci si riaggiorna a una puntata successiva puntata successiva che è stata comunque ehm diciamo magari meno eh ricca complessivamente rispetto alla prima però ha avuto diversi punti interessanti comunque in questo video vi andrò un po' a prendere le parti più importanti della prima e della seconda puntata e appunto non non si è partiti decisamente male perché la partenza della seconda puntata episodio millediciannove è stata niente meno che lo scontro fra Chris Bay e eh Kevin Knight che è uno dei nuovi arrivati sostanzialmente in questo rebranding eh tiene uno scontro molto interessante ovviamente vista la differenza comunque di esperienza di status fra i due vince Chris Bay però davvero un ottimo showdown una buona prima apparizione per Kevin Knight che vedremo anche poi nella puntata successiva intanto però nel post match Grizzled Young Veterans tornano a farsi sentire attaccano Chris Bay e i sostini cerca di arrivare per mettere un po' una pezza non ci riesce e comunque sia come già vi dicevo nell'analisi eh della puntata precedente ovviamente loro sono tra quelli comunque più papabili per andare per eh le cinture e tra l'altro proprio in questa puntata viene annunciato l'inizio di una best of three series che ci sarà fra questi due tag team dove il team vincitore della serie sarà anche quello che poi avrà le cinture di coppia della TNA sulla sulla sua spalla tra l'altro il primo match della serie è già stato fatto non ne parlerò comunque in questo video cercherò magari di parlarne in altri contenuti però ecco appunto eh è già stato fatto il primo match lo potete recuperare nell'ultima puntata che eh è stata caricata dalla eh TNA e il main event praticamente dello dello show intanto proseguendo comunque in questo episodio abbiamo anche il rimatch tra Jordan Grace e eh Trinity per quanto riguarda il TNA e Knockouts Championship un match comunque eh interessante anche qui se non fosse che ecco con le vibes da ehm ritorno in WWE comunque con la vicinanza della Royal Rumble anche qui c'era un po' quella sensation che l'incontro non potesse andare che in un unico modo è stato comunque via ehm interessante dai alla fine Trinity ha cercato in tutti i modi di mettere ancora più in difficoltà Jordan Grace rispetto a quanto fatto nel primo scontro per certi versi va anche eh va anche bene così eh vediamo comunque anche eh grande rispetto fra le due atlete segno che comunque sia alla fine è quella mh un po' come dire quell'alleanza quell'amicizia che avevamo sub eh subodorato quando loro hanno fatto coppia per eh Final Resolution alla fine comunque l'hanno mantenuta nella storyline quindi va bene c'è stato anche un filo conduttore proprio da un punto di vista umano e narrativo va bene direi così vince appunto ancora una volta Jordan Grace che però nel post match viene attaccata da eh Giselle Shaw vincitrice del eh match Ultimate X che ha dato quindi a lei una title shot per il titolo knockouts è una Giselle Shaw che vuole appunto iniziare un po' a mettere il eh il pepe un po' addosso a Jordan Grace per cercare di farla stare un po' sul chi va là intanto poi nel seguito vediamo uno Steve McLean che va a continuare a da far stidio a Nick Nemeth un Nick Nemeth che eh vince comunque il suo eh primo match in eh TNA batte eh Zachary Wentz dei Rascals uno Steve McLean appunto come già detto che cerca un po' già diciamo di eh avere un primo vantaggio ehm sul nuovo arrivato non ci riesce ed è un Nick Nemeth che per il momento in qualche modo ha solo da sorridere intanto se questo contenuto vi sta piacendo se volete vedere sempre più contenuti sulla TNA e siete già arrivati a questo punto beh allora continuate a darci una mano se non l'avete ancora fatto lasciate un like a questo video magari iniziate già a dire quello che ne pensate appunto qui sotto nei commenti e mi raccomando se magari riusciamo già in questa settimana a far arrivare questo video ad almeno quindici ne chiedo solo quindici like beh magari poi alla settimana successiva ci sarà un video proprio unico dedicato a una puntata a cosa è accaduto appunto in TNA e Wrestling ovviamente rimangono come opzioni anche questi contenuti un po' più larghi però penso che comunque per voi sia più fruibile un contenuto più ridotto ma ovviamente ci serve il vostro supporto quindi dai con i like e intanto torniamo comunque a vedere quello che è accaduto nella eh seconda puntata di rebranding TNA con le MK Ultra in azione che hanno avuto eh la meglio diciamo nel loro match in modo molto molto tranquillo tra l'altro c'erano come loro avversarie eh Jody Trett e Danny Luna che sembrano essere un nuovo tag team femminile che sarà in azione in questo eh riavvio della TNA però di strada ne hanno decisamente da fare perché MK Ultra in quanto anche ex campionesse hanno la meglio su di loro con grande facilità arriviamo alla fase finale nonché fase forse più importante di questo eh riavvio della TNA il ritorno di Kazuchika Okada e ragazzi qui davvero ci sono feels simbolismi eh diciamo un po' un po' di tutto perché Okada comunque era già stato in TNA non si sono lasciati benissimo comunque anche per via della gestione che la TNA aveva dato a uno sostanzialmente dei più giovani e anche più importanti prospetti della New Japan Pro Wrestling che poi appunto per anni non ne ha più voluto sapere della TNA Wrestling Okada in questo finale comunque del suo percorso con la New Japan si riappacifica anche con la TNA ed è una cosa davvero bellissima il pubblico è molto caldo per lui ovviamente vediamo comunque eh diciamo un'entrata eh molto intensa con anche i Motor City Machine Guns e tra l'altro in questo match diciamo assume ancora più eh rilievo il perché comunque Musa abbia trionfato nel main event di Hard to Kill infatti come avversari di Okada ci sono i membri del system quindi Musa e di Edwards e Brian Myers con Musa che va proprio faccia a faccia con Okada ovviamente sono i due un po' più forzuti no? Dei due schieramenti e quindi si affrontano in un eh breve testa a testa fra i due e eh vediamo anche comunque altri momenti molto interessanti all'interno del match Okada ovviamente fa le sue cose tipiche quindi dropkick e non manca anche la Rainmaker Pose al centro del ring nel momento in cui appunto riesce a portare il suo team in vantaggio e se pensate che magari Okada in vista di di questo ritorno comunque in TNA di questa apparizione speciale si sia preso anche le luci della ribatta nel finale del match beh vi sbagliate di grosso perché nel finale Okada fa sì la Rainmaker su Brian Myers ma poi lo serve a Alex Shelley per eseguire la Shell Shock e portare il team alla vittoria un Alex Shelley che comunque beneficia molto di ehm di questa vittoria di questo finale perché comunque è già un modo per andare per provare a mettere di nuovo un po' di pepe in questo caso sulla ehm sulla testa di Mus che in questo momento è detentore del titolo TNA e magari Alex Shelley potrebbe provare a conquistarlo nuovamente magari già proprio a eh no surrender perdonatemi ma nel momento in cui sto registrando questo video non ho visto se hanno annunciato altri match per non surrender ma come già detto mi riservo comunque di parlarvi di eh TNA in tanti altri nuovi contenuti in questa nuova annata di Bresling che stiamo che stiamo vivendo adesso ora più che mai la palla passa a voi quindi mi raccomando volate qui sotto nei commenti diteci cosa ne pensate di questa ripartenza anche proprio settimanale della TNA se volete altri video sempre più numerosi ovviamente aiutateci con anche con i vostri like e noi ci vediamo sempre a un prossimo video qui su Bresling Unico Amore